Dobbiamo tornare a parlare di una situazione un po' particolare che negli ultimi tempi è stata sollevata da Ericsson Per chi non conosce Ericsson, potrebbe esserci qualcuno un po' più giovincello, che non lo conosce Ericsson è stato un allenatore, attualmente mi sembra che non alleni più oppure ha allenato fino a qualche tempo fa nei campionati minori Che ha allenato la Lazio nel 2000 e che ha portato lo scudetto alla Lazio, in quella famosa bufera che la Juventus fu costretta a combattere contro il Perugia La Juve perse lo scudetto all'ultima giornata di campionato, giocando una gara molto distribibile E' tornato a parlare Ericsson, su vari testari giornalisti è stata riportata la notizia, è stata riportata la notizia anche su OneFootball Come potete vedere è la notizia che vi scorre qui, a proposito se volete scaricare OneFootball il link è ovviamente in descrizione E ha detto due cose secondo me molto gravi, che suonano più come un attacco alla Juve che una considerazione personale La prima cosa riguarda la situazione relativa a Perugia, molti hanno detto che la Juventus non avrebbe dovuto giocare quella partita Perché se la ricordano c'era un diluvio ragazzi, la palla nemmeno rimbalzava a terra a collina Ci fece giocare una partita che poi perdemmo con un gol molto particolare di Oliva se non sbaglio Adesso lo ricordo bene, ma comunque c'è un centrocampista del Verona che tirò Renato Oliva, credo, fu proprio lui E praticamente questo Renato Oliva ci fece il gol e ci fece perdere questo scudetto Per Ericsson no, disse la Juventus non ha perso lo scudetto perché è andata a giocare su quel campo Ha perso lo scudetto perché la Lazio era forte Che la Lazio fosse forte nessuno lo mette in dubbio Era la Lazio di grandi campioni Ma la Juve quello scudetto ce l'aveva fra le mani Se si avesse avuto la decenza di rispettare il regolamento Cioè la palla se non rimbalza non si può giocare la partita A quell'ora probabilmente staremo parlando di un'altra situazione Poi ha detto la seconda cazzata in una dichiarazione Che se ne dice un'altra, voglio dire, credo sia straordinario Io ho accanto qui un cellulare di riserva per farvi vedere che ha detto una cazzata La Juventus negli anni scorsi ha vinto senza avversari E quest'anno è diversa Andiamo a considerare gli anni dallo stop di Conte Perché poi si parlava di Conte che ha fatto un triennio straordinario anche con 102 punti Arrivata a più 30 dagli inseguitori Parliamo della Juventus dal 2014 ad oggi praticamente Vediamo se abbiamo vinto senza avversari in Italia Perché adesso mi sono veramente stufato Il primo anno ci è andata veramente molto bene Juventus primo posto con 87 punti Secondo posto con 70 punti Quindi eravamo a più 17 Campionato, secondo campionato Il Napoli arriva a secondo La Juventus è prima nel 2015 con 91 punti Il Napoli con 82 Praticamente arrivano a meno 9 Non mi sembra che non siano stati avversari Nel 2016 Juventus 91 Roma 87, Napoli 86 Sono a 5 punti ragazzi 4-5 punti dalla vetta Anche qui abbiamo vinto senza avversari Nel 2017-2018 Juventus 95 Napoli 91 Anche qui senza avversari Sono arrivati a meno 4 Nel 2018-2019 Juventus 90 Napoli 79 Qui c'è stata una bella differenza di valori Per farvi capire che ci sono delle stagioni In cui la Juve è arrivata a più 9 A più 12 Ma non è vero che la Juventus ha vinto senza avversari Perché il Napoli e la Roma hanno fatto bei punteggi E poi c'è quest'anno che ovviamente dobbiamo capire un po' Dove va a finire Quindi le due cazzate di Ericsson giornaliere Ce le siamo sentite Non ho idea del modo in cui questo allenatore Sinceramente vede il calcio Per dire che la Juventus quello scudetto L'ha perso perché la Lazio era più forte della Juve Potrebbe anche essere stata la Lazio più forte della storia Il problema è un altro Quella partita specifica contro il Perugia Non andava giocata Lo ripeterò fino allo seguito Non andava giocata Punto Come era stata rinviata altre gare Doveva essere rinviata anche quella Poi posso dire una cosa molto semplice Qualche mese dopo Collina rilascia un'intervista E dice Io da piccolo ero tifoso della Lazio Ah bello Molto bene voglio dire Se era successo al contrario In cui la Lazio aveva perso lo scudetto all'ultima giornata In questi episodi Collina qualche mese dopo sarebbe andato lì E avesse detto Guarda io Se Collina scusate fosse andato lì E avesse detto Guardate Io Sono tifoso della Juve fin da bambino E anche se però non c'entra niente Sarebbe venuto giù il mondo probabilmente Ci sarebbe stato il diluvio universale al contrario E per quanto riguarda la situazione relativa Ragazzi Alla Alli campionati vinti senza avversari Cioè ma di che cazzo stiamo a parlare Vi ho portato dei dati Chiari e precisi Che spero rispondano alla domanda Che vi fate Che vi fate tutti Ma quest'anno ci abbiamo gli avversari No Gli altri anni giocavamo col pizzichettone Con il Brisbane E col Country Road Ragazzi Ci sono arrivati a 4-5 punti dalla vetta Non che sia Non è che abbiamo fatto più 20 tutti gli anni Se non ve lo ricordate È un problema di Ericsson Voglio dire un problema a volte Perché comunque vi ho portato Quello che vi dovevo portare con i dati Fatemi sapere nei commenti Grazie a tutti